Benvenuti. Benvenuti al punto. Siamo alla seconda puntata di questa trasmissione per la decima legislatura. Andiamo a conoscere gli ospiti di oggi e salutiamo Andrea Liberati, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Benvenuto ad Attilio Solinas del Partito Democratico. Entrambi alla prima esperienza da consiglieri regionali. Lei Liberati segna anche una tappa storica, dato che porta per la prima volta all'interno dell'aula di Palazzo Cesaroni il Movimento 5 Stelle. Allora, priorità e obiettivi? Poi sarà anche la domanda per Solinas. Partiamo da qui. Allora, priorità per il Movimento 5 Stelle è indubbiamente l'introduzione del reddito di cittadinanza regionale. È una priorità assoluta che va di pari passo con l'obiettivo nazionale. Diciamo che chi fa prima indubbiamente dà comunque una mano ai cittadini, dipendentemente dal livello, dal rango. Ma a questo non può che affiancarsi una decisa lotta a certe condotte della vecchia classe politica, dei vecchi partiti, che sono purtroppo, come posso dire, maggioritarie dentro i vecchi partiti. E queste condotte sono oggetto delle nostre speciali attenzioni. Come? Attraverso anche una semplice iniziativa, quella di richiedere i documenti. Questo non è stato fatto. Riteniamo che negli ultimi cinque anni ci sia stata una forte collusione dell'opposizione con la maggioranza che quindi siano pressoché indistinguibili queste organizzazioni, che talvolta davvero rappresentano delle consorterie, dei comitari d'affari e che portano l'Italia, l'Umbria, alla situazione in cui si trova oggi. Da un lato vediamo la completa condiscendenza nei confronti del sistema europeo, del sistema ovviamente finanziario della Troica. Dall'altro, dalle nostre parti, osserviamo come si perdono 15.000 posti di lavoro in appena 4-5 anni e appunto contegni comportamenti inaccettabili. Noi siamo qui un po' per rieducare questa classe politica, per segnare una discontinuità, che è quella di dire ok, basta così, andiamo a vedere cosa avete fatto in questi anni. Noi siamo convinti che ci siano state delle situazioni davvero sgradevoli. Siamo convinti, non ci convince il comportamento della magistratura sul tema dei gruppi consigliari, tanto che abbiamo avviato un'iniziativa comune con il Movimento 5 Stelle della Toscana per quanto riguarda i rimborsi dei gruppi, tanto che Umbria e Toscana, come è noto, non sono state toccate dallo scandalo delle mutande pazze e secondo noi questa non è una regione di Santi. Insomma, ci stiamo muovendo a 360 gradi su queste tematiche. Allora, Solina, se lei porta l'esperienza della sanità, dato che viene da quel mondo, allora la stessa domanda diceva prima Liberati, puntare al reddito di cittadinanza, quindi toccando il welfare. Lei come obiettivo e come priorità cosa ha? Beh, le priorità sono più di una sicuramente. La priorità della sanità è una delle più importanti, delle principali. C'è una riforma che è stata scritta, è stata applicata solo parzialmente, una riforma che prevede una razionalizzazione del servizio sanitario regionale, un potenziamento della sanità territoriale che è quella più a contatto con i cittadini, una riforma delle cure primarie, la creazione di strutture di assistenza sul territorio che evitino il sovraccarico degli ospedali, il ricorso inappropriato all'ospedale, quindi potenziamento dei centri di salute, creazione delle case della salute, dove il cittadino si può rivolgere 24 ore su 24 per problematiche gestibili sul territorio, tipo pronto soccorso, codici bianchi, situazioni croniche che sono molto frequenti perché ci sono molte persone anziane in Umbria, è una regione dove si invecchia molto, ci sono patologie croniche che possono essere gestite senza ricorrere al ricovero. Ovviamente queste strutture devono essere dotate di apparecchiature adeguate e di personale specialistico, infermieri e medici. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti, poi la riforma anche degli ospedali, dell'alta specializzazione, ci sono varie tematiche da affrontare in ambito sanitario. Per quanto riguarda un'altra priorità sicuramente principale è quella dell'economia, il rilancio del lavoro, e quindi l'economia va, bisogna continuare a incentivarla attraverso i fondi europei, i fondi strutturali europei, con una maggiore attenzione a quelle aziende che possono realmente creare posti di lavoro, quindi che si interfacciano col mercato globale, che fanno esportazione, quindi analizzare i progetti da finanziare con i fondi europei con un occhio meritocratico e soprattutto bisogna anche verificare se quanto erogato ha realmente creato un beneficio all'economia, ha creato nuovi posti di lavoro. Lei è stato indicato dalla coalizione di centro-sinistra quale presidente della terza commissione che si occuperà proprio di sanità e servizi sociali, quindi immagino che queste saranno le sue linee per quanto riguarda il lavoro prossimo della commissione. Sicuramente sì, la sanità e sociale, poi c'è anche lo sport, c'è anche la caccia e pesca, ci sono vari altri ambiti tematici che devono essere affrontati da questa commissione, poi li valuteremo insieme. Liberati, manteniamoci su questo tema della sanità, poi toccheremo chiaramente altri argomenti, qual è l'economia e il lavoro che toccava prima Solinas, ma che anche lei, parlando di reddito di cittadinanza, insomma, sottolinea queste esigenze a livello regionale. Ecco, la sanità in Umbria è stata considerata da sempre, possiamo dire, una delle eccellenze rispetto anche alle altre regioni italiane. Lei che ne pensa? Ma noi, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, assistiamo a un precipitare di alcune statistiche, quindi dati oggettivi, livelli essenziali di assistenza da terzi a ottavi in pochi anni in Italia. Questo è accaduto durante la fase commissariale marini, non è accaduto 15 anni fa, è accaduto oggi, adesso, negli ultimi anni, quindi siamo in una fase sicuramente difficile, occorre recuperare, però sulla sanità poi bisogna dirla tutta, intendo dire quanti oggi sono costretti a rivolgersi alle strutture private o ad andare a spendere i loro soldi altrove perché il ticket è troppo elevato oppure perché la lista di attesa è troppo lunga. Questi sono temi veramente dirimenti. Io credo che lì bisogna andare a operare e per andare a operare lì però c'è un altro problema che si apre, cioè tutta quella selva di strutture private che sono state aperte, che vanno avanti grazie ai malfunzionamenti, alla cattiva gestione del sistema sanitario che comunque ha dei costi esorbitanti, quindi del sistema sanitario pubblico, del sistema universale, ecco, quelle che fine fanno. Quindi si sta dischiudendo una prospettiva di lavoro veramente importante su cui il Movimento 5 Stelle accenderà un faro, anzitutto appunto sui costi. Capire se ci sono sperperi, è stato ricordato anche soltanto pochi mesi fa, come un certo strumento sanitario in farmacia per un privato costasse un terzo rispetto a quello che pagava l'ASL. Allora, ecco, c'è tanto da fare sicuramente. Parlare poi in termini di salute anziché di sanità. Quando parliamo di redditi di cittadinanza, noi parliamo anche di uno strumento che, come posso dire, ha una funzione preventiva rispetto a un disagio che diventa sofferenza e che diventa malattia. Cioè ci sono tanti aspetti su cui lavorare, quindi il tema della felicità, delle eudaimonia, come direbbero gli antichi. Cioè, quindi, allargare sempre più la cornice per costruire nei confronti dei nostri cittadini un sistema nuovo a beneficio di tutti e non a vantaggio di pochissimi, anche sotto il profilo affaristico. Solinas, toccava due argomenti di grande attualità liberati, no? Le liste d'attesa e gli acquisti per ottimizzare, insomma, anche la spesa della sanità. Ecco, lei su questo cosa pensa? Sì, le liste d'attesa sono un problema che riguarda non solo la nostra regione. C'è una tendenza all'inappropriatezza perché è necessario risolvere il problema affrontando la domanda più che l'offerta. L'offerta è adeguata. I servizi ci sono. Alcuni servizi vanno potenziati in termini di organico e di apparecchiature. Ovviamente, verificare se gli standard sono adeguati in base alla richiesta epidemiologica dei vari territori dell'Umbria. Ma la domanda è spesso inappropriata perché c'è una prescrizione a volte inappropriata, perché c'è un consumismo sanitario da parte del cittadino che di sua iniziativa, di testa sua, richiede degli esami che a volte non sono necessari. Quindi bisogna fare anche un'educazione sanitaria, un'educazione all'appropriatezza e una verifica delle linee guida, perché il medico che prescrive una prestazione deve eseguire delle linee guida scientifiche. Ormai la scienza ci dice quando un esame è necessario o quando non è necessario. Quindi non c'è il rischio di sbagliare. È ovvio che non è una scienza esatta la medicina, però in linea generale si può fare una prescrizione con la massima accuratezza e appropriatezza possibile, chiaramente. Liberati, a livello politico come prevede questa legislatura? Secondo lei come si svilupperà a livello anche di rapporti tra le forze politiche all'interno dell'Aula? Secondo lei? Ci sono dei rapporti consolidati tra sinistra e destra che ritengo non mutino nemmeno con il variare dei consiglieri regionali, quindi con l'avvicendarsi di nuovi e vecchi. Quindi ci sono abitudini che diventano davvero ebetudini, consolidate di collusione troppo forti, davvero smaccate. Bisogna superare questo perché ci occorre recuperare una sana dialettica democratica tra le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle esiste perché c'è un'abitudine insana appunto che ha devastato il paese e quindi anche in questa regione indubbiamente noi andremo a cercare di stanare certe condotte, l'ho ricordato prima. Ora che cosa pensiamo di fare? Beh intanto agire sul concreto, portare dei temi concreti. Abbiamo ricordato il Radio Cittadinanza, peraltro approvato in forma sperimentale in Friuli Venezia Giulia, diretta dal Vice Secretario del PD Serracchiani. Ma ci sono altre cose che non possiamo omettere. Direi la prima è appunto una seria riduzione delle indennità. Abbiamo già proposto il nostro ordine del giorno, è in archivio, naturalmente c'è questo consiglio che si riunisce per la seconda volta di fatto quasi due mesi dopo dalle elezioni. Abbiamo quindi parlato di come andare a incidere sulla spesa, anche attraverso una sorta di autoriduzione da parte dei politici eletti, autoriduzione degli emolumenti. E poi dall'altra parte andare a incidere sui problemi concreti. I problemi concreti quali sono? Beh, ad esempio stiamo presentando tutta una serie di proposte che riguardano anche il tema del lavoro sotto altri profili, quali, ad esempio, la riqualificazione ambientale come precondizione del lavoro. Quindi il tema del lavoro di nuovo legato alla salute, che non sono in funzione dicotomica, ma stanno insieme. Lavoro e salute procedono insieme. Quindi anche su questo, insomma, si potrebbe parlare, ricordiamo il caso della ThyssenKrupp a Terni. A Terni noi registriamo un valore di cromo nell'aria che è 10.000 volte, 10.000, quello di Perugia. E' chiaro che il cromo è un marker tipico dell'inquinamento siderurgico, è una componente essenziale, ma certi fenomeni non sono stati minimamente accompagnati dalla politica. Fenomeni, intendo, di inquinamento che in realtà sono stati, come posso dire, corroborati da comportamenti indegni della vecchia classe politica che, per fini clientelari, ha gonfiato l'azienda e poi, insomma, certe conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Solinas, i rapporti a livello di Consiglio regionale, quest'anno, in questa legislatura, per la prima volta ci sono più opposizioni, no? Finora c'era un'opposizione di centrodestra, adesso c'è anche l'opposizione con il Movimento 5 Stelle e quindi con Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari. Quindi cambia un po', diciamo, no? Anche la, diciamo, la formazione di questo Consiglio regionale. Lei che prevede? Diciamo, sia Ricci, portavoce del centrodestra, che Leonelli, nella scorsa trasmissione, insomma, parlavano anche di proposte, no? Di portare avanti, se le proposte sono serie e importanti, una linea che possa far crescere questa regione. Poi chiederemo anche a Liberati, in questo contesto, come si collocherà il Movimento 5 Stelle. Lei che dice? Io ho una connotazione particolare. Non sono un politico di vecchio corso, mi considero e mi definisco un cittadino lavoratore, un professionista che ha accettato una candidatura e quindi è entrato in Consiglio regionale con la voglia di fare, di collaborare, di condividere le scelte che si riterranno più giuste. In Commissione collaborerò con tutti i membri della Commissione, quindi sia quelli di minoranza che di maggioranza, analizzando i problemi in maniera tecnica e oculata. Penso di coinvolgere anche in un comitato tecnico, persone che possono dare una mano, dalla società, rappresentanti degli operatori, in ambito sanitario, sociale, eccetera. Penso di poter anche attivare una consulta strutturata, quindi partecipazione proprio programmata e consolidata. E' un'innovazione anche nel funzionamento della Commissione? Sì, penso di sì. Adesso se è possibile, vedremo da un punto di vista tecnico, ma io credo che bisogna collaborare con i cittadini, con la società, perché scambiare opinioni, rilevare e recepire quanto la società ci dice è importante, perché l'autoreferenzialità a me non piace. Io ho bisogno di confrontarmi continuamente con i tecnici, con gli operatori, con gente che mi può dare delle informazioni su come magari una riforma va attuata, se ci sono delle cose da modificare, se ci sono degli emendamenti negli atti passati e futuri da attivare, da verificare. Quindi io credo che bisogna fare un lavoro di apertura nei confronti della società, in modo anche da ripristinare un minimo di consenso e di verifica. Liberati, come si comporterà il Movimento 5 Stelle di fronte ad argomenti o proposte comunque di vostro gradimento, se possiamo adoperare questo termine? Il Movimento 5 Stelle, essendo espressione dei cittadini, volendo essere portavoce autentico dei cittadini, non potrà non tener conto di quella che è l'opinione dei predetti. Quindi, a riguardo, valuterà caso per caso che cosa fare. Ricordo però in premessa che in questi giorni noi ci siamo occupati di bilancio. Non so se è un tema delle prossime domande, ma che cosa abbiamo fatto a proposito di una sana contrapposizione dialettica? Abbiamo raccontato la nostra controverità. Non è possibile che da anni vengano conculcate le regole relative alla programmazione al bilancio. Ci sono dei termini stabiliti per legge, la legge 13 del 2000, e invece si continua da anni, sembra addirittura da dieci anni, si continua a non rispettare queste regole. Quindi noi siamo ormai a fine luglio, non abbiamo il bilancio preventivo, ma non è stato nemmeno predisposto, scusate l'assestamento ovviamente di bilancio preventivo, non è stato nemmeno predisposto, cosa che fa sorridere, visto che doveva essere consegnato e, meglio, approvato entro il 30 giugno 2015, manca il rendiconto che deve essere approvato entro il 31 luglio, e allora noi abbiamo inviato una diffida al Presidente del Consiglio, perché ingiunga, quindi alla Donatella Porzi, perché ingiunga alla Presidente Marini di consegnare questi documenti per farli approvare onde consentire una, devo dire, impossibile sanazio a nostro avviso. Noi chiediamo di valutare, in questo senso, l'attivazione dell'articolo 126 a fine del commissariamento della Giunta, perché accade da anni. Allora, bisogna essere seri, bisogna recuperare serietà, concretezza, come? Rispettando anzitutto le regole. Chi le deve rispettare? In primo luogo il politico. Allora, cerchiamo di farlo, cerchiamo di fare in modo che queste regole divengano patrimonio comune, e noi siamo qui per questo. Bene, sarebbe stata la domanda successiva, quindi ci entriamo subito. Rispetto, ecco, a queste sottolineature che faceva Liberati, l'ha fatto anche, devo dire, in più di un'occasione, come gruppo Movimento 5 Stelle, anche in una conferenza stampa, con comunicati quasi giornalieri, e cosa risponde, Solinas, in questo caso? Beh, sono richieste plausibili, adesso vediamo come risponderanno le istituzioni. Io penso che non ci siano grossi squilibri dal punto di vista economico e del bilancio. Io penso che i conti sono in ordine, è stato tutto gestito con oculatezza e con, diciamo, adeguato raziocinio nel mantenere i conti in ordine, appunto, soprattutto per quanto riguarda la sanità, che tra l'altro rappresenta più dell'80%, come tutti sanno, del bilancio regionale. Questo non vuol dire che non si può fare di meglio, che non si può razionalizzare, si può fare un lavoro di verifica attenta, essendo una legislatura nuova, con degli interessi nuovi, è importante, insomma, mettersi a lavorare per fare in modo che le cose vadano ancora meglio. Io penso che anche dal bilancio della Corte dei Conti che si è tenuta l'altro giorno, la seduta si è tenuta qualche giorno fa, è risultato che alcune cose possono essere migliorate nelle spese istituzionali, ma in linea generale c'è stato un giudizio positivo, quindi le cose possono considerarsi adeguatamente portate avanti. Si può migliorare questo sicuramente. Parliamo di politica più in generale, uno sguardo a una politica nazionale sempre più frammentata, è difficile leggere giornalmente quello che può accadere il giorno dopo, ecco, da due punti di vista. Solinas dal punto di vista, insomma, del partito che guida il governo con Matteo Renzi e dall'altra parte Andrea Liberati con un Movimento 5 Stelle forte di numeri importanti sia alla Camera che alla Senato. Proviamo a immaginare cosa potrà accadere dopo l'estate, dato che questo è un periodo in cui, insomma, la politica si vive in maniera un po' più distaccata rispetto a quando arriverà poi settembre. Solinas. Io credo che il Presidente Renzi, che è una persona intelligente, un grande trascinatore, un uomo che sa dare speranza agli elettori e ai cittadini, si sta rendendo conto che deve condividere di più le scelte, che il Partito Democratico non è un partito che può trascurare l'ambito di sinistra del partito, che ha avuto storicamente degli elettori di sinistra e quindi bisogna che si è reso conto, si sta rendendo conto anche da come si sta muovendo, che bisogna allargare un po' la base di consenso, bisogna ridare fiducia anche a una fascia di elettori che è stata un po' trascurata, che nelle ultime elezioni ha fatto un passo indietro rispetto al consenso che era stato dato un anno fa. e quindi io penso che lo scenario futuro sarà di maggiore condivisione delle scelte, di riapertura di certi ambiti di discussione, per esempio, nelle riforme istituzionali, revisione di alcune riforme che possono essere ulteriormente discusse per fare un lavoro migliore quando si faranno le leggi. Liberati, i numeri vi danno ragione, nel senso che i sondaggi, anche i sondaggi alla mano, gli ultimi, insomma il Movimento 5 Stelle, mentre gli altri partiti oscillano, perdono, guadagnano un punto, eccetera, il Movimento 5 Stelle mi pare che stia su una percentuale estremamente importante, no? A livello nazionale. Ecco, perché secondo lei in questo momento di disaffezione politica oggettiva il vostro movimento continua ad avere certi numeri? Io credo che tutto questo si riconduca a una sorta di linguaggio della verità che ci connota, cioè senza infingimenti, senza nascondimenti, raccontarla per com'è. È una realtà la nostra complicata, quella nazionale. Se noi guardiamo al comportamento del governo Renzi sul piano internazionale, partiamo da lì, perché questo è il dramma di questi mesi, ecco, siamo apparsi come lo scendiletto della Merkel. Ecco, credo che questo non accadrebbe con il nostro governo, occorre recuperare forza, la forza primigiaria del paese fondatore dell'Unione Europea, unicamente agli altri cinque, eravamo appunto sei. Allora, cominciamo da qui. Poi, naturalmente, guardiamo di nuovo a quello che deve essere il modello. Se il modello nazionale, se il modello nazionale è lontanissimo, è agli antipodi antipodi, da quell'offerto dall'immagine di mafia capitale, io credo che l'Italia possa recuperare la grande e così anche l'Umbria. È chiaro che nei vecchi partiti ci sono anche dei sommovimenti che parlano, possono parlare di futuro, nel senso che ci sono dei tentativi di pulizia, però si fa ancora troppo poco perché ci sono troppi compromessi e questo lo vediamo anche in Umbria. Noi abbiamo parlato non a caso di cappa politico-giudiziaria, occorre liberarsene, occorre fare un passo avanti verso il futuro, occorre quindi liberarsi sostanzialmente di cosa? Dei compromessi esistenti tra taluni soggetti e talaltri. Purtroppo questo linguaggio sembra quasi brutale, traumatico, ma è quello nostro, è un linguaggio corroborato da testimonianze, da ispirato a modelli completamente diversi. Per rientrare nel consesso autenticamente occidentale bisogna liberarsi di certi bizantinismi. Lei ha vissuto anche un'esperienza nella campagna elettorale di Obama, cosa più volte insomma su cui è stato voglio dire è tornato nel ricordo di quel periodo lì. Ecco, cosa ha portato da quell'esperienza e cosa vorrebbe mettere in atto, siamo come vede in conclusione quindi velocissimi, cosa vorrebbe rimettere in atto nella politica italiana in questo caso regionale? Indubbiamente la trasparenza, un aspetto fondamentale che in America esiste e qua no, è il fatto di sapere che la persona che è lei, che è al mio fianco, che siete voi, che sono i cittadini, ecco, è immediatamente riconoscibile. Cosa significa? Che io so i carichi giudiziari ad esempio di quella persona, lo so in via trasparente, attraverso internet, qua non si sa nulla di nulla, se uno deve sapere il tuo vicino di casa se è un pedofilo o meno, deve andare in tribunale, va in cancelleria e poi non lo sa, nemmeno attraverso l'avvocato, allora questo è un aspetto. Poi la civiltà anglosassone qualcosa ci consegna, quella comunque è una delle più antiche democrazie e quella democrazia ci dice che noi dobbiamo fare tanti passi avanti, indubbiamente poi nel bene o nel male ognuno ha la sua storia, quali passi avanti? Beh, indubbiamente da noi c'è tanta indulgenza nei confronti del politico, il politico deve cercare di comportarsi non soltanto bene ma deve essere autenticamente vicino ai cittadini e quindi in questo senso non posso che cercare di trasmettere questi modelli da civil servant. L'Inas, solitamente un medico diventa quasi un confessore del cittadino, il cittadino nel rapporto particolare che si saura poi con i medici si lascia anche andare a riflessioni, affermazioni, proposte eccetera. Ecco, credo sia un'esperienza importante, lei cosa si porta invece da questa esperienza di medico sul campo? Beh, io sono abituato a parlare con le persone proprio per lavoro, per mestiere quindi il contatto costante con le persone mi fa recepire alcune necessità importanti, le persone vogliono innovazione, vogliono maggiore qualità in certi ambiti in campagna elettorale ho incontrato tanta gente che si aspetta molto dalla politica si aspettano le riforme si aspetta il miglioramento dei servizi e soprattutto il lavoro io ho sentito sempre parlare di lavoro questo problema di disoccupazione le aziende che chiudono le aziende commerciali anche che chiudono quindi bisogna fare in modo rimboccarsi le maniche mettersi seduti a tavolino e studiare insieme delle soluzioni che siano adeguate questo è l'aspettativa maggiore che riceviamo dalle persone e dai cittadini ci sono dei mezzi economici li possiamo ricevere dall'Europa possiamo spendere meglio i soldi possiamo fare qualità nella selezione potenziare anche la ricerca scientifica la ricerca in generale che crea crea innovazione che crea posti di lavoro l'Umbria è una regione che può attrarre molto anche dal punto di vista turistico il turismo è il nostro futuro è la nostra vocazione principale dal punto di vista economico quindi sono tante cose da fare da rilanciare bisogna lavorare insieme io credo molto nella condivisione degli interi siamo in conclusione chi è Matteo Renzi Liberati chiaramente avrà capito la domanda che farò lui tra 20 secondi chi è Matteo Renzi Matteo Renzi è Presidente del Consiglio Segretario del Partito Democratico il più grosso partito del centro-sinistra italiano è come dicevo prima un grande riformatore un trascinatore un uomo che sa dare speranza io penso che può fare molto perché è una persona giovane può fare ancora meglio di quello che sta facendo sta facendo riforme importanti si può discutere sul merito delle riforme in maniera più condivisa secondo me il punto è questo qui ma io credo molto nel nostro Presidente del Consiglio e molti italiani ci credono e ci credono ancora Liberati chi è Beppe Grillo? un cittadino come tutti gli altri ma anche un estrione un fantasista un creativo vorrei dire un genio sicuramente un visionario forse un folle ma ha riattivato milioni di persone e questo io l'ho visto appunto in America all'epoca ha riattivato milioni e milioni di giovani che altrimenti non avevano speranza ecco noi siamo con lui quante volte vi sentite con Grillo? ma no essendo un cittadino come gli altri io l'ho conosciuto il 9 maggio alla marcia per il reddito di cittadinanza e lui è stato bellissimo e spero che spero che non ce ne siano troppe altre di marce per il reddito di cittadinanza vediamo se siete bravi o meno grazie ad Andrea Liberati capogruppo del Movimento 5 Stelle da Tilio Solinas del Partito Democratico in questa settimana in cui verranno istituite e si formeranno le commissioni consigliari uscirà fuori insomma da quello che sappiamo sulla sua presidenza la terza commissione quindi buon lavoro sin d'ora dato che vedranno questa trasmissione anche dopo appunto queste votazioni all'interno di questi organi consigliari grazie ancora per essere stati in studio grazie a voi per averci seguito l'appuntamento alla prossima settimana arrivederci